2007-2013 sulla disoccupazione giovanile, all'aumento delle risorse per l'Erasmus e l'Eures, a creare strumenti di collegamento tra politiche attive del lavoro e il circuito scuola-università-lavoro, a spingere per l'entrata in vigore dell'Alleanza europea per l'apprendistato entro l'estate 2013. Per questo, sempre tenendo a mente la prospettiva europea, abbiamo organizzato un pre-vertice dei parlamentari di tutti i parlamenti nazionali europei il giorno prima del Consiglio europeo, perché dai giovani rappresentanti della generazione più colpita dalla crisi facciano sentire la propria voce ai governi. Guardando al futuro non si può non guardare a dove affondano anche le radici del nostro agire politico e quindi al nostro passato. Per questo, in conclusione, invito tutti noi, deputati under 35 e non solo, a fare del nostro meglio per cercare di essere, come ha esortato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, all'altezza dell'articolo 1 della Costituzione. Grazie. Ha chiesto la parola la deputata Leonora Cimbrone, a facoltà. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, sottosegretario. Parlare oggi di disoccupazione giovanile in Italia è sicuramente un elemento che segna l'inizio di un processo che ormai non è più rinviabile. Il senso di queste emozioni è proprio quello di segnare una profonda discontinuità con il passato. E che questo Governo abbia tra le priorità il tema della disoccupazione giovanile è un ulteriore dato che ci conferma quanto cruciale sia affrontare il problema fondamentale del mondo dell'occupazione in Italia. Dico questo, sebbene possa sembrare una constatazione banale e scontata, perché i giovani sono il nostro futuro. Sono il futuro dell'Italia e sono il motore di tutto il sistema su cui è fondato il Paese Italia. Preoccupa il dato italiano e preoccupa il dato europeo. È per queste ragioni che dobbiamo tutti comprendere che anche questo tema deve essere affrontato nel più ampio contesto europeo. Non è possibile infatti affidare ai singoli Stati membri il compito di intervenire su un'emergenza che necessita, per essere risolta, di una strategia complessiva ed organica. Oggi, inoltre, non serve ragionare, è stato detto, in termini di scontro generazionale. Ma è indubbio che chi ci ha preceduto non ha avuto la lungimiranza di comprendere che politiche poco oculate hanno contribuito alla situazione drammatica che oggi dobbiamo affrontare. Il peso di scelte sbagliate grava sulle spalle dei giovani e questo loro malgrado. Di qui la responsabilità che tutti, giovani e meno giovani, devono assumersi, attraverso uno spirito di solidarietà generazionale e di collaborazione. La nostra Costituzione ci dice appunto che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. È da questo principio fondamentale che deve partire l'analisi di ciò che non è stato fatto e la consapevolezza di ciò che si dovrà fare. Non avere un lavoro e, in molti casi, non essere impegnati nemmeno in un percorso di formazione è condizione nella quale oggi si trovano moltissimi giovani italiani. È chiaro che questo provoca danni enormi in termini sociali ed economici. Il costo che dovremo pagare e che già ora stiamo pagando per reggere un sistema che ha questo profilo è e sarà di gran lunga superiore a quello per avviare nuove politiche che consentano di riequilibrare tale sistema. Questa è la consapevolezza che oggi deve spronarci ed intraprendere tutte le iniziative possibili per incentivare un'occupazione giovanile stabile. Non avere un lavoro significa, infatti, non avere potere d'acquisto, non comprare una casa, non avere progetti e quindi non investire nel futuro. Tutto questo ha un costo elevatissimo e il nostro sistema rischia oggettivamente di implodere. E non avere un lavoro o non potersi permettere un percorso di studio o di formazione in attesa che il lavoro ci sia significa anche non avere strumenti per valorizzare la propria persona e per impegnarsi nella vita di tutti i giorni. La forza dei giovani sta nella voglia sempre e comunque di rimettersi in gioco, di misurarsi, di avere idee sempre nuove ed energie per poterle realizzare. Ma se ogni strada viene preclusa, se ogni aspirazione viene stroncata, se ogni entusiasmo non trova uno sbocco, avremo giovani che non sogno più e che sentiranno come lontani tutti i valori su cui è fondata la nostra Costituzione e il nostro Paese. Grazie. Grazie. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il Governo intende intervenire questa sera. Do la parola al sottosegretario Iole Santelli. Prego. Grazie Presidente. Veramente poche parole, ma mi sembra un atto veramente di correttezza a replicare ad una delle discussioni che, almeno per me, che sono qui da anni, è stata una delle più interessanti.